Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana a tutti voi e bentornati su mio calane. Oggi sono qui con un nuovissimo video riguardante una nuova trattativa di calciomercato che riguarda il nostro amato Lecce. Prima di parlarvene però, come sempre, vi chiedo di lasciare un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Vi chiedo scusa se questo video ve lo porto con qualche ora di ritardo, ma ieri sono stato praticamente tutto il giorno fuori e non ho trovato proprio una briciola di tempo per portarvelo prima. Allora, arriva il difensore Marin Pongracic in prestito con diritto di riscatto sulla base di una cifra intorno ai 6 milioni di euro. Arriva dal Wolfsburg, squadra della massima serie tedesca, quindi la Bundesliga. È in classe 97, ha 24 anni e a settembre ne compirà 25. È al tuo metro e 93, appunto il difensore centrale, ma ha anche altri ruoli perché dai suoi allenatori, soprattutto nelle campionati minori e in Austria, è stato schierato anche addirittura da mediano o da terzino destro. Chiaramente viene qui per fare il difensore centrale. Nella sua carriera ha vinto per ben tre volte il campionato austriaco e per ben due volte la Coppa Austriaca, sempre con il Red Bull Salisburgo. Vanta appunto 38 presenze in Bundesliga con la maglia del Wolfsburg e con la maglia del Borussia Dortmund. E infatti l'anno scorso il Borussia l'ha voluto in prestito, lui è andato a giocare 17 partite segnando 0 gol, però se l'ha voluto una big europea come il Borussia, significa che il calciatore ha valore e il calciatore ha talento. Quindi sono molto contento di questo nuovo acquisto. Che dire, dopo Sassuolo Lecce abbiamo capito che la difesa è a posto, paradossalmente. Dico paradossalmente perché in questi anni la difesa è stata il problema. Sperando che l'inavanti, Sisè o Colombo comincino a segnare, altrimenti io vi ererei su una punta da Serie A con esperienza. Avevamo Massimo Cotto in squadra, l'abbiamo venduto, se non è stato un errore cederlo. Vabbè, che ci dobbiamo fare? Ritornando per un ultimo 10 secondi su Pongracic, Che dire, la difesa con Pongracic un titì? Eh, non sarebbe assolutamente male. Il giocatore dovrebbe arrivare oggi a Lecce per le visite mediche. Ragazzi, ci sentiamo in un prossimo video. Forza a Lecce sempre. E ciao a tutti. Grazie a tutti.